Lucia Bosetti, una bella vittoria 3-2, decisivo anche il tuo ingresso nel tie-break? Sono contenta della vittoria perché dopo il primo set diciamo che c'eravamo un po' tutte rilassate e pensavamo sarebbe stata facile, invece sono dimostrato una squadra veramente tosta, hanno difeso tantissimo, ho cominciato a battere forte e quindi siamo andati un po' in difficoltà. Però sono contenta che da queste difficoltà siamo uscite come squadra. È stata una partita come hai detto te, dura, però sono immerse anche tante qualità dell'Italia stasera. Ah sì, le qualità ci sono sempre state alla fine perché se no non eravamo più alle Final Six perché c'erano tante squadre che si sono lottate all'ultimo posto e invece noi ci siamo qualificati addirittura con due giornate di anticipo. Quindi questa cosa qua non è da sottovalutare. Poi sicuramente qua ci sono informazioni che in questo momento qua sono sia come preparazione sia come magari un po' superiori perché stanno preparando anche una qualificazione olimpica. Quindi sono contenta comunque, anche ieri abbiamo detto la nostra.